buonasera e benvenuti in un nuovo video questo sarà un piccolo video all dove voglio mostrarvi i miei acquisti cartopazzi fatti da tiger oggi ho preso proprio due cose ma proprio nel vero senso della parola perché ho intenzione di andare a decorare un pochino il mio calendario in cucina quello appeso diciamo dato che è un calendario un po neutro l'ho preso su amazon calendario classico bianco senza troppe cose ho detto vabbè mettiamoci un po di colore un po di cose e oggi da tiger ho acquistato due confezioni di adesivi questi li ho pagati due per un euro e sono fatti così allora qua abbiamo questi adesivi con tutti questi gattini cricettini il gattino con il donut il ketchup la maionese sono carinissimi molto cute e molto kawaii e li ho presi da mettere in cima al calendario metterò per ogni mese qualcosa ad esempio pensavo il mese del mio compleanno dato che al mio compleanno volevo mettere qualcosa che mi piacesse tanto e metterò il gattino con il donut anzi in realtà mi sa che ha un cricetto così quindi il mese del mio compleanno è luglio e poi ho preso questi altri sempre quei gattini hamburger e telefoni sono fatti così in realtà io avevo selezionato solo questi poi quando sono arrivata la cassa mi ha detto guarda che sono due per un euro io non avevo letto che erano due per un euro quindi sono tornata a prenderne uno ho preso questi che erano diversi sono molto carini e appunto secondo me sono carini anche per decorare le agende ma appunto io attualmente non ho un'agenda e quindi andrò a decorare il mio calendario che è in cucina e nulla questo è il mio piccolo acquisto cartopazzo è il mio primo in realtà vero acquisto cartopazzo anche se poi devo dirvi la verità il mondo della cancelleria della cartoleria mi è sempre piaciuto fin da bambina ma poi ora crescendo obiettivamente sono cose che non uso e non mi servono e le comprerei proprio per collezionismo ma insomma ora direi no poi si vedrà e comunque nulla ho preso queste due cosine molto kawaii molto pucciose sono veramente molto molto contenta e nulla io spero che questo mini video vi sia piaciuto fatemi sapere qua sotto nei commenti se anche voi adorate gli adesivi insomma se li utilizzate per cosa li utilizzate se avete qualche consiglio da darmi su qualche adesivo particolare dove posso trovarli e nulla io vi ricordo che sono presente anche su instagram quindi iscrivetevi anche sulla mia pagina instagram anche perché poi ci sarà un succoso di giveaway a raggiungimento di 25 mila iscritti quindi iscrivetevi 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 perdonatemi la faccia alla voce ma da come avrete intuito sono parecchio raffreddata e nulla iscrivetevi al canale attivate la campanellina lasciate tanti tanti like di supporto al canale e al video io vi saluto e ci vediamo alla prossima ciao